Scusate, partiamo? Del mondo dell'editoria cosa posso pensare? Io ci vivo da, diciamo nel 2017, da 22 anni. Il mio lavoro è fare lo scrittore, quindi non lo faccio per semplice passione ma anche per mestiere, e fare l'editor che è colui che segue gli scrittori. Faccio l'editor per una casa editrice da appunto 22 anni, quindi del mondo dell'editoria credo di averne un'ampia visione. Penso che sia per alcuni aspetti un bel mondo perché naturalmente aiuta a produrre i libri, e i libri si sanziano le fondamenta di ogni società. Dall'altra parte è un mondo malato perché è fatto da sbruffoni che dopo aver scritto un libro si sentono anyway. Per cui il mondo dell'editoria dovrebbe, per vicinanza di più alle persone, essere leggermente più sintetico. Quindi penso questo. E se sento lei che la scrittura può influire, se ne ascoltà o come ascoltà, se ne ascoltà, se ne ascoltà? Generalmente nessuna forma d'arte influisce sulle mutazioni sociali. Influiscono molto di più cose che noi riteniamo banali, tipo cibi, temperature, mutamenti climatici, eccetera. La cultura non influisce nel breve, nel lungo magari un po', ma in genere non influisce. La società invece dovrebbe influire molto in quel ramo della cultura, letteratura, musica che sia, il teatro che si chiama realista, e in questo senso dovrebbe influire per lasciarne taraccia. Cioè accadono delle cose di notevole rilievo, compito di un letterato, di un musicista, di un uomo di teatro, è quello di narrarle per lasciarne taraccia nel tempo. Questo non muterà la società, però lascerà dei semi, lascerà delle taracce, e queste taracce potranno in futuro essere studiate. Per cui lo scrittore, l'attore, il regista, il musicista, deve tentare di raccogliere ciò che avviene e lasciare il frutto taraccia attraverso il suo studio. L'unica cosa onesta che possiamo fare, immaginare di cambiare la vita qualcuno, sarebbe esagerato. E torniamo alla domanda che mi hai fatto prima, che renderebbe una distanza talmente abissale e che non sarebbe più scontata. L'unica cosa onesta, se lei ha un dottore a cui l'hai influenzato maggiormente, è stato, offre... Non è Fabio Volo, come si può immaginare, ma è Luis Ferdinand, che credo insieme a pochissimi altri siano uno dei 5-10 più grandi scrittori del Novecento, ed è quello che forse mi ha influenzato nel vedere alcuni aspetti della società.